Non proprio bullizzato, però soffrivo questa cosa che se, ad esempio, c'era uno scontro fisico, io comunque magari avevo la peggio. Ma è stata una sorta di sopravvivenza, comunque magari andavamo al parchetto, sai, le prime canne, le prime cose, da 13-14 anni. Quindi comunque era facile litigare, era proprio da ragazzetto giochi con le mani, cioè a Roma era così, ci si picchiava. Per noia, poi non so per cosa. Ho smesso quell'età perché ho iniziato a fumare, andavo là, fumavano i spogliatoi, facevo un po'... Era indisciplinato. L'ho iniziato a fare proprio tipo disastri. Ok. Però fino ai… prima dell'adolescenza tutto a posto. Anche dopo, non è che per carità, però ho iniziato un pochetto ad essere un po' più aggressivo, un po' più… sempre nella ragione, mai nel torto, non so come dire. Cioè ti scatta l'aggressività nel senso…